GILBERTO BERNARDI ABRUZZO premiante Cattano Fabrizio bellissimo colpo, davvero davvero straordinario, davvero incredibile venite un applauso da tutti davvero, un applauso da tutti facciamoci un applauso eccolo Fabrizio accomodati accomodati sul tuo trono senza sentire i dettagli degli altri però la nostra voce generante prego la declamazione delle motivazioni GILBERTO BERNARDI inizia il suo impegno nell'arte e nello spettacolo amatoriale come sceneggiatore e interpretere di teatro popolare con il lavoro di San Bernardi quasi a voler considerare il teatro e più in generale la trasposizione scenica quale campo di indagine antropologica Nel 1989 ricostituisce il coro di San Leonardo con l'obiettivo di continuare a tramandare una tradizione canora che dal 1946 ha fortemente caratterizzato il territorio di San Leonardo successivamente per dare valore istituzionale all'iniziativa costituisce l'associazione culturale San Leonardo con la quale promuove molteplici attività scambi culturali organizzazione e partecipazione a rassegne festival nazionali e internazionali organizzazione di importanti sagre feste popolari nell'ambito dell'impegno più ampio del recupero del patrimonio etnografico del suo territorio Gilberto dedica particolare attenzione alla conoscenza degli antichi mestieri che erano il tessuto connettivo di San Leonardo Ortona questo impegno di Bernardi è particolarmente apprezzato dalla FIT ritenendo che far conoscere un antico mestiere descriverlo analizzarlo in sé e in rapporto all'uomo alla società alla storia significa come affermava Pasolini impegnarsi in un riaprodo l'unico modo possibile per impedire che la sabbia degli anni possa coprire un mondo che era certo sì di miseria ma anche di infanzia di ricordi che hanno sempre un significato sociale e culturale con tale riconoscimento la FIT pertanto vuole dare merito a Gilberto Bernardi per aver posto l'accento sul significato degli antichi mestieri che è sempre una riflessione sulla cultura e una riflessione sulla cultura finisce sempre con l'essere un discorso sull'uomo dunque anche sull'uomo del nostro tempo padre del folklore personalità benemerita della federazione italiana tradizione popolare per la regione Abruzzo di conoscimento a Gilberto Bernardi premio Catale Caprizio ci accomodiamo verso davanti palco aspetta che ti metto il microfono ah vabbè siamo solo che è una meraviglia congratulazioni grazie mille grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie alle persone che si impegnano che riusciamo ad avere queste personalità benemeriti grazie ancora veramente